Buongiorno a tutti, come abbiamo visto nello scorso video, l'importanza di proteggere i capelli dalla sassedine e dal sole. Oggi qui con noi abbiamo Alessia che ci rappresenta in quanto ha un capello fortemente schiarito e trattato e quindi ha bisogno di trattamenti giusti e su misura per lei per rendere più setoso e luminoso questo capello. Il vostro parrucchiere in quanto un professionista vi darà la soluzione per idratarli e nutrirli sinonimo di un capello sano. Buona giornata e buona estate!